È nel trattare il nuovo titanico piano per il potenziamento idrico abruzzese che Luciano D'Alfonso prende in esame tutte le ferite che il territorio ha subito negli ultimi anni, come quella della cosiddetta bomba ecologica di Bussi, ancora al centro di mille polemiche e preoccupazioni. Intanto domani partecipo alla seduta del Tribunale che si tiene a Teramo, a Chieti chiedo scusa per rendere certo il fatto che Regione Abruzzo è costituita ed è costituita per salvaguardare gli interessi non solo delle popolazioni ma anche del creato che sono a rischio alla luce di ciò che è accaduto. E mi presento anche con un voluminoso dossier documentale che abbiamo noi messo insieme circa i dati dell'osservatorio e circa i dati anche della ripetitività epidemiologica. E poi anche lì dobbiamo elevare l'asticella, ritrovare l'ambizione, fare in modo che parta in maniera concreta l'azione della messa in sicurezza, della bonifica e della caratterizzazione. Ho visto su questo un atteggiamento burocratico.